Non c'è pace sotto, o meglio dentro, i cassonetti. Ancora oggi, nonostante tutti gli appelli e le considerazioni del caso, c'è chi deliberatamente ignora la raccolta differenziata. Una segnalazione di un altro conferimento errato di rifiuti ci arriva dal quartiere Flaminio, dove i cassonetti lungo via Togliatti, quasi di fronte all'asilo, predisposti per vetro, carta e plastica, sono stati utilizzati male da qualcuno colto da pigrizia o da qualcos'altro. Nel contenitore della carta sono stati riversati innumerevoli bottiglie di plastica e vari contenitori rigidi, diverse bottiglie di vetro e diverse anche paia di scarpe e pantofole usate, addirittura anche alcune posate da tavola di finitura, diciamo un po' vintage. Ora, a parte le scarpe vecchie e le posate che possono comunque essere smaltite come indifferenziato, per il resto i cassonetti diciamo giusti, erano lì, a portata di mano, sia plastica che vetro, sono proprio accanto al contenitore della carta. Perché dunque fare tutt'erba un fascio? Certo comprensibile ma non giustificabile se questo nascesse dal fatto che, se per smaltire correttamente, i residenti dovessero fare chilometri di percorso, ma nel caso specifico i contenitori corretti sono a pochi centimetri uno dall'altro. Solo la cattiva educazione e lo scarso senso ecologista definiscono questo ennesimo episodio di furbetti del cassonetto.